Non vedo l'ora che sia domenica che ricomincio a dipingere come dico io. Invece che dipingere in questa maniera barbara. Questa tela è veramente molto assorbente e non so se è un bene o un male, vedremo. Potrebbe essere un bene. Vedremo. Ok. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A me piace comporre i colori sulla tela e non sulla tavolozza. E credo che questo sia un handicap. Grazie a tutti. Probabilmente già sto sbagliando, questo è quello che sto dicendo. A parte che sono partito con questo giallo di fondo, che me la farà pagare cara, sono sicuro. Allora sono partito... Per l'impostazione sono partito con un terra d'ombra bruciata, come da tradizione. Per oggi ok, domani continuiamo.